Come avete conosciuto? Una cena a casa di amici di un nostro amico comune, Claudio Gioè tra l'altro, un attore famoso italiano. Si può dire? Si, Claudio Gioè. Ciao Claudio se ci vedi. A casa sua, mi ricordo che Luca cucinava un pesce al sale meraviglioso, rimasi scioccato, è un grande chef. Da lì è iniziata un'amicizia prima e poi una collaborazione professionale. Che sono le migliori? Si, ci divertiamo, devo dire ci divertiamo. Ma adesso come si è diventato italiano perché, cioè apprezzato dall'Italia, dall'Italia perché... No, diciamo che siamo sempre stati apprezzati, prima una nicchia, ci apprezzava una nicchia più ristretta, adesso forse è un pubblico un po' più largo, però io non ho mai sentito rivalità con il mio paese, sinceramente, mai. Questa è una bella cosa. E comunque con l'autore praticamente del film, James Ivory. Beh, James è un'icona, è anche un amico, è stato un piacere passare del tempo con lui nello scrivere e preparare il film, è stata una bellissima possibilità di conoscere... Vi aspettavate l'academy? No, sinceramente no. Io sono rimasta perché io ho visto che hanno concesso una serata di gala, il tuo quadernino al film, al American... Sì, eravamo qui. No, il film, devo dire, è inaspettatamente accolto, è stato accolto e accolto con una calore proprio inaspettato, devo dire inaspettato. Al di là del glamour, dei premi, dei riconoscimenti, ma proprio ti rendi conto che la gente ama profondamente il film, veramente, proprio... Sì, sì, grande soddisfazione, devo dire. La ringrazio e... Grazie a lei.